... ... ... ... Ragazzi, ragazzi! Dobbiamo trovare una canzone da imitare per il compito di italiano. Despacito Despacito ... ... ... No, no! Di cinema italiano! ... Come ci organizziamo? Io, io, ho un'idea! Facciamo Bacemi ancora, la canzone di Giovanotti. E di che tratta il film? E' un film di Gabriele Muccino. E' una comedia romantica bellissima. Bacemi ancora! Bacemi ancora! Bacemi ancora! Bacemi ancora! Un ruido e un rumore lontano a mia terra che esplode con fine del cielo. Oh! Bacemi ancora! Bacemi ancora! Bacemi ancora! Bello, bello! Me lo scrivo. Altra idea? Io ho un'altra idea. Cacciamo la vita e vedla? Ah, sì! Io ho visto quel film. Tratta del holocausto. E' come la canzone! A ese non me la ricordo, però la cercherò. Buongiorno, principessa! Vedremo, altra idea? Io conozco una congonna sonora del padrino. Ah, sì! Me lo ricordo! Quella scena tanto famosa... Com'era? La cerco su Youtube. Parla più piano e vieni qui vicino a me. E poi io sentire gli occhi tuoi dentro di me. Nessuno sa la verità. E un grande amore mai più grande esisterà. E un grande amore mai più grande esisterà. Adesso manderò un messaggio ai ragazzi per avvisarli. Oh, un messaggio del genaro. Che sarà mai? Dici di imitare la canzone di Cinema Paradiso. Che ne pensate? Bene! Faremo Cinema Paradiso. Domani le diremmo alla prof. E vediamo cosa ne pensa. Adesso. 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 Grazie a tutti